Sculture in voce. Un progetto del Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento. Museo civico di Montevarchi, riconosciuto museo di rilevanza della regione toscana. Consulenza scientifica per l'accessibilità del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, con la collaborazione di Promo Cultura. Michelangelo Monti, Milano, 1875, Torino, 1946. L'inizio alla vita, 1902. Gesso con tracce di policromia. Base 185 x 65 cm. Altezza 133 cm. La suggestiva gipsoteca di Michelangelo Monti raccoglie oltre 160 gessi donati al museo nel 2010 da Maria Celeste Monti, nipote dell'artista. Tra busti e piccoli ritratti da salotto a figura intera, l'attenzione si concentra su L'inizio alla vita, grande scultura in gesso, altezza a 133 cm, nota anche col titolo Rovi e spine o La via delle spine, posta al centro della sala. Da poco terminati gli studi all'Accademia Albertina, nel 1902 lo scultore presenta l'opera alla prima quadrennale torinese, mostra particolarmente importante perché si tiene parallelamente alla prima esposizione d'arte decorativa moderna. Di dichiarato impegno sociale, la scultura incontra il parere favorevole della critica e viene esposta davanti al celebre Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, dipinto oggi conservato al Museo del Novecento di Milano. L'inizio alla vita è il capolavoro giovanile di Michelangelo Monti, in cui l'artista dimostra di essere legato alle suggestioni della cultura lombarda e di avere eccellenti nozioni anatomiche. La scultura raffigura due bambini, di dimensioni quasi al vero, per i quali Monti usa come modelli i fratelli minori, Leonardo e Antonietta. Il bimbo cammina con lentezza e fatica su un sentiero, quasi trascinando le proprie gambe. La sinistra è flessa in avanti, mentre la destra, allungata indietro, fa perno sulla punta del piede e trasporta sulle spalle la bambina più piccola, che gli stringe le braccia al collo, abbandonandosi fiduciosa. Il viso del bambino è smagrito, contratto, le labbra e gli occhi sono semi chiusi. Il corpo, nudo e magro, coperto solo da un leggero drappo che gli cinge la vita, è modellato nel dettaglio per mettere in evidenza ossa, muscoli e tendini. Tiene le braccia e le mani dietro la schiena per sorreggere la bimba addormentata, anch'essa magra e seminuda. È un'immagine di miseria e solitudine, di umanità e di speranza. È una scena evocativa di una situazione di disagio, di incertezza per il futuro che ancora oggi molti popoli vivono quotidianamente. Nel basamento, nel lato lungo sinistro, l'opera è firmata e datata M. Monti 1902. Nel lato destro corre invece l'iscrizione in lettere maiuscole L'inizio alla vita. Testi Lucilla Baldetti e Federica Tiripelli del Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento Revisione testi Monica Bernacchia Aldo Grassini Andrea Socrati del Museo Tattile Statale Omero Voce narrante Lorella Serni per Cantestrasse Riprese video e montaggio Tommaso Orbi per Macma Riprese audio Antonio Di Virgilio